Capitano, parliamo di questa iniziativa, una bella iniziativa che serve anche a far capire che il mare va rispettato. Assolutamente sì, è un progetto che è durato quasi due anni, che ha visto la partecipazione di numerose scuole e la cosa ci ha fatto molto piacere, una collaborazione con Arpacal che è servita e serve nel tempo anche per questa attività di sensibilizzazione, quindi far capire ai ragazzi, ai più giovani l'importanza di tutelare l'ambiente, l'importanza di tutelare il mare e quanto l'ecosistema marino sia veramente un valore aggiunto in particolare in questo territorio dove tra l'altro c'è un'area marina protetta la più grande d'Italia con tre zone A di riserva integrale e quindi si percepisce e si tocca con mano quanto l'ambiente mare sia importante nella realtà crotonese. Siamo stati coinvolti in questo progetto che appunto è stata una grande iniziativa per noi perché vivendo in un piccolo paese comunque il riciclaggio è stato introdotto da poco quindi è stato elemento di sensibilizzazione per noi giovani in generale e anche e soprattutto per la popolazione. Abbiamo rappresentato un'opera celebre di Vincent van Gogh che è La notte stellata abbiamo preso un pannello e abbiamo rappresentato a modo di bagaglio quindi da una parte abbiamo rappresentato la notte stellata con acrilici e pennelli invece dall'altra parte abbiamo rappresentato sempre la notte stellata però comunque con elementi di riciclaggio come cannucci di plastica, tappi, fogli di giornale, bottoni e così via e quindi volevamo comunque far capire che si può rielaborare tutto, si può rivisitare tutto anche in un'opera d'arte. E dobbiamo aggiungere che avere rispetto della natura, avere rispetto del mare significa allungare la nostra vita perché ormai si parla sempre più di questa crisi che ci rende fragili. Sì decisamente è una cosa che aiuta tanto perché comunque se partiamo da queste piccole cose come anche un'opera d'arte, un disegno che comunque riesce a far capire il significato di questa grande cosa che stiamo vivendo è molto importante. Che cosa avete aggiunto a questo? Abbiamo aggiunto tutto, abbiamo aggiunto tantissimi materiali come appunto bicchieri di carta, fogli di giornale appunto tipo dei contenitori di polisterolo, cannucce, bottoni, tappi di bottiglia, comunque tantissimi materiali. Trovate tutti in mare? La maggior parte sì, anche molti difficili da comunque riciclare perché tipo i cotton fioc sono tra i materiali più difficili.